La promessa è che gli emendamenti sulla ricostruzione del cratere 2009-2016 saranno presto discussi e approvati in Parlamento, ma al momento del documento legislativo atteso come la panacea di tutti i mali e di tutte le criticità della ricostruzione post-sisma non c'è ancora certezza. Il sottosegretario di Stato con delega ai beni culturali, in particolare alla ricostruzione del patrimonio artistico e culturale dei territori colpiti dal terremoto Gianluca Vacca, a margine del suo intervento alla rassegna internazionale sul restauro e la rigenerazione urbana a Ufficina L'Aquila, in svolgimento oggi e domani all'auditorio del Parco del Castello, rassicura sull'approvazione degli emendamenti presentati nell'ambito del Decreto Sblocca Italia. Decreto che si apre con alcune modifiche importanti al contestatissimo nuovo codice degli appalti e che affronta gli eventi sismici del Molise e dell'area etnea e le disposizioni per i terremoti dell'Aquila e quelli del Centro Italia del 2016 e del 2017 e dell'Isola di Ischia del 2017. Emendamenti, quegli aquilani in particolare, è frutto di un lavoro di concertazione che ha visto lavorare insieme le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di categoria. Il nodo più importante su cui gli emendamenti faranno leva sarà la ricostruzione pubblica ancora ferma al palo. Alcuni emendamenti sono proprio sul terremoto 2009, vedremo ovviamente cosa votare il Parlamento, orientalmente è quello di fargli approvare anche per accelerare ancora di più la ricostruzione. Il sottosegretario ha poi rassicurato sul mantenimento della soprintendenza all'Aquila. L'Abruzzo avrà quindi due soprintendenze definitive e stabili, novità anche per quanto riguarda la sede del segretariato regionale che restrena Abruzzo. Il Governo sta inoltre per sbloccare la delibera Cipe che consentirà di sostenere l'arrivo di personale aggiuntivo negli uffici periferici del MIBAC nel territorio del cratere. La soprintendenza all'Aquila non solo verrà confermata ma diventerà stabile, quindi nella riorganizzazione interna del Ministero l'Abruzzo avrà due soprintendenze definitive e stabili, quindi non più soltanto una, più una speciale, e quella dell'Aquila sarà una soprintendenza stabile. E in più la sede del segretario regionale che è quello che fa gli appalti per la ricostruzione che in una prima ipotesi doveva essere accorpato un illazio invece resterà in Abruzzo e quindi la sede resterà qui. Nella riorganizzazione del piano assunzionale che abbiamo messo in campo, che prevede quasi 4.000 unità in più in tutto il Ministero, una parte importante verrà riservata ovviamente agli luoghi del terremoto. Si procede anche per la definizione della sede distaccata all'Aquila del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Abbiamo individuato i finanziamenti necessari proprio all'apertura del Maxi e quindi nei prossimi mesi vedremo anche la sede del Maxi e l'Aquila aprire qui nel nostro territorio.